è finita la polizia, vediamo se gira senza attrito non l'aveva neanche prima l'attrito no, non l'aveva neanche prima è impressionante, c'è un oggetto di 50 anni fa con un attrito vicinissimo allo zero nessun rumore naturalmente questa sembra la pubblicità della Rigoni, ti ricordi? l'ha aperto, che era il Telefunken è l'anziano l'anziano è proprio l'anziano ce l'ha fatto